Elia, perseguitato dalla regina, sperimenta sconforto e paura, cerca un posto per mettersi al sicuro, viene accolto da una vedova a Sarepta, a casa sua. L'ospitalità, generosità e fede di questa vedova ottengono il miracolo dal profeta. Nonostante Elia avesse un cuore abbattuto da una parola di speranza alla vedova. Chissà convivire dal poco che ne ha, ne riceve molto. Gesù nella nuova alleanza offre se stesso. Non offre qualcosa ma se stesso per la nostra salvezza. ci insegna ad offrire noi stessi a Dio. Offrire la nostra vita ogni giorno, essere dono per gli altri. qualsiasi autorità o responsabilità di fronte agli altri sono per servire e non per opprimere. offrire la nostra vita e il nostro tempo i propositi senza limiti a Dio con fiducia e amore. Come la vedova del Vangelo offriamo le nostre vite al Signore e serviamo il nostro fratello con amore e humildà. Dio vi benedica.